L'Ancona che fatica ad aprirsi, l'Ancona che senta a diventare attrattiva, ma anche l'Ancona che si fa bella e si prepara ad accogliere per l'ennesima stagione estiva quasi 100.000 turisti che transiteranno nel porto della città. È la stima di Welcome to Ancona, l'ormai consueto progetto di marketing territoriale promosso dalla Camera di Commercio del Capoluogo. Ricettività, arte, cultura, identità dei territori. È su queste direttrici che si gioca la partita del turismo. L'opportunità che si presenta alla città è quella di catturare il passaggio dei croceristi, la cui presenza sarà garantita dagli scali della Costa Classica e della MSC Armonia. Il presidente della Camera di Commercio di Ancona, Rodolfo Giampieri. Ancona dimostra e conferma di essere una meta turistica molto ambita e che dà in termini di risposta efficienza nei servizi. Solo per questo due importanti agenzie come Costa e come MSC hanno deciso di confermare e rafforzare la loro presenza. Per cui avere confermate, anzi rafforzate le crociere dello scorso anno in un momento di forte crisi come questo anche nel comparto del turismo purtroppo, conferma Ancona come meta privilegiata. Ecco noi dobbiamo fare del tutto, noi stiamo rafforzando i servizi, stiamo rafforzando le opportunità perché le crociere rappresentano una ricchezza, rappresentano una ricchezza per il territorio, per la città, ma soprattutto rappresentano la possibilità di far ritornare i croceristi da turisti. Il nostro sogno, la nostra ambizione, il nostro obiettivo è che i croceristi tornino da turisti, cioè dedicando ancora più tempo alla nostra città. Una navetta Conerobus trasporterà i croceristi dal terminal fino alle vie del centro, i musei saranno visitabili, le associazioni di categoria garantiranno l'apertura dei negozi e degli esercizi commerciali anche le domeniche. Queste le priorità secondo MSC Crociere che salperà ogni sabato fino al 2 novembre per un totale di 30 scali e che quest'anno propone una sosta di 12 ore a Dubrovnik per una visita a Međugorje. Luigi Cerracchio, area manager del centro Italia, MSC Crociere. Riconfermiamo con grande piacere e con grande forza lo scalo di Ancona che riteniamo essere uno dei porti strategici nell'area dell'Adriatico e nell'area del centro Italia e lo facciamo con forza, dicevo, perché aumentiamo gli scali rispetto al 2012 passando da 26 scali a 30 scali e in proiezione movimenteremo 59 mila passeggeri. Novità importante dell'itinerario è la sosta a Dubrovnik il giorno dopo Ancona con 12 ore di permanenza a Dubrovnik per consentire l'escursione a Međugorje. Un'altra domanda che le faccio è che cosa può fare Ancona per essere ancora più attrattiva, diciamo così? Ancona deve essere disponibile fondamentalmente. Avere un sistema di ricettività che consenta di trovare i negozi aperti quando ci sono le navi in porto, che consenta di avere i musei fruibili da parte dei flussi dei nostri croceristi. Ci deve essere una logica di sistema a favore dei croceristi ma soprattutto a favore di Ancona stessa. La posizione strategica di Ancona nel centro Italia è ciò che ha convinto invece Costa Crociere dal 2005 a fissare uno scalo proprio nel capoluogo con l'intenzione di proseguire il rapporto anche l'anno prossimo in vista di una decennale. Ogni domenica sino al 3 novembre l'itinerario terre sacre e isole nel blu. Marco Paolucci, Trade Marketing Manager di Costa Crociere. Costa ha avuto una visione, credo che si è rivelata di successo ben nove anni fa, di scegliere Ancona come porto strategico nelle Marche per il centro Italia, sia per i passeggeri in partenza da questa splendida area geografica ma anche per mettere in mostra tutto il contesto di Ancona e delle Marche per quei turisti che partendo da Trieste decidessero di imbarcarsi sulla nave Costa, quest'anno in particolare Costa Classica. Quindi il perché è la riconferma degli ottimi risultati che sta avendo sia nei commenti dei nostri passeggeri ma anche nelle performance che nonostante gli ultimi anni abbastanza difficili siamo convinti che possano essere mantenute e anche migliorate nei prossimi anni. tant'è che noi abbiamo già riconfermato Ancona anche per il prossimo anno e quindi festeggeremo qui ad Ancona il decimo anniversario della nostra presenza.